Amici ben ritrovati, io sono Alistair. Sì, lo so, vi sto abituando bene, praticamente è quasi un video al giorno. In cambio voi iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e se vi piacciono i miei video potete darmi una mano abbonandovi con un euro al mese qua su YouTube. Allora, in questi giorni è diventato virale un video, purtroppo nessuno dei miei. Un video nel quale viene ripreso un signore sui 60-70 anni intento a compiere gesti o sceni presso un distributore di benzina. Se vi interessa approfondire quali siano i gesti o sceni, ma ve lo sconsiglio, beh, vi basta una semplice ricerca su Google. Mi sono ritrovato questo video spammato letteralmente ovunque, tra gruppi WhatsApp, gruppi Telegram, X e chi più ne ha ne metta. Le immagini che vi farò vedere e che ovviamente ho censurato sono state riprese un paio di giorni fa, martedì 14 maggio, presso il distributore IP di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. Ma non è vero, dai! Ma cosa fai? Ma cosa fai? Il ragazzo che ha girato il video con il proprio smartphone, che presumo sia lo stesso del quale si sente la voce, ha detto si trattasse di un distributore di benzina a Brescia, ma in realtà il luogo sembra appunto essere differente, e pare anche che la persona ripresa non sia neppure il benzinaio, ma uno che passava di lì. Nel video si vede infatti la saracinesca abbassata, dunque probabilmente in quel momento il distributore di benzina era chiuso, immagino per pausa pranzo. L'uomo ripreso indossa un cappellino arancione, che effettivamente può ricordare i colori dell'IP, ma non vedo alcun luogo sopra, e dalle immagini che ho trovato facendo una veloce ricerca, i cappellini arancioni dei benzinai che lavorano presto i distributori IP dovrebbero avere sopra il logo della compagnia. La possibilità più probabile è dunque che si tratti di una persona che semplicemente passava di lì, una persona che evidentemente si trova in condizione di un forte disturbo psicologico, un disturbo mentale. Pensiamo ad esempio alla demenza, all'Alzheimer, problematiche che spesso e volentieri insorgono proprio dopo i 60-65 anni. Malattie che hanno come sintomi più frequenti la perdita di memoria, la perdita dei freni inibitori, di come ci si comporta e delle più basilari norme sociali. Ogni anno, nelle pagine di cronaca sui giornali locali, si leggono moltissime notizie di anziani che escono di casa e finiscono dispersi, proprio poiché affetti da patologie mentali. Su numerosi siti medici e di psicologia ho inoltre trovato ampia descrizione di comportamenti sessuali impropri da parte dei malati di demenza o di Alzheimer. Può essere infatti che si spoglioni in pubblico, che facciano gesti con le proprie parti intime, o addirittura che cerchi in approcci con persone della propria famiglia, confondendo magari la propria figlia con la moglie defunta da anni. Proprio poiché magari si hanno ancora determinati stimoli, determinati istinti, ma non si ha più la capacità cognitiva di gestirli in modo sano. A me pare abbastanza evidente che la persona anziana ripresa nel video possa soffrire di qualche condizione mentale che andrebbe presa in carico da uno specialista e non derisa su internet. Credo dunque che chiunque l'abbia filmato e pubblicato il video online per raccattare qualche visualizzazione, non abbia fatto un'azione della quale andare molto fiero. Sputtare una persona con evidenti problemi mentali, nemmeno degnandosi di oscurare il volto, credo sia stato veramente un gesto spregevole. Chiunque avesse un minimo di buon senso avrebbe molto semplicemente chiamato i carabinieri, che sarebbero arrivati e avrebbero fatti dovuti controlli avvisando i familiari e eventualmente gli assistenti sociali. Non so, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se solo io mi sarei comportato così. Cioè, noi invece abbiamo gente che sta diffondendo il video ovunque e altri che addirittura si stanno recando in pellegrinaggio presso il distributore di benzina, così semplicemente per farsi una foto sul luogo del misfatto. Boh, se a voi sembra normale, a me non lo è. Poi, per carità, i meme che stanno girando fanno ridere a tutti, lo so, a me incluso, ma questo è un altro discorso. Mi sta venendo da vomitare. La senti la putta? Bene amici, ci tenevo a dirvi due parole su questa vicenda della quale si sta parlando un po' ovunque. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e se vi va di abbonarvi al canale con appena un euro al mese. Io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.